Cari ascoltatori e amici di Radio Puginion Air, Laura Pausini è pronta a regalarci un nuovo capitolo della sua incredibile carriera musicale. Con un post che ha fatto tremare i social media, Laura ha finalmente svelato la data di uscita del suo nuovo album intitolato Anime Parallele, Ali Almas Parallelas, che vedrà la luce il 27 ottobre. Ma ascoltate questa notizia straordinaria, Laura Pausini ha preparato per noi diverse versioni di questo album, ognuna delle quali sorprenderà in modo unico. Allora, si può scegliere tra il CD standard, che conterrà ben 16 canzoni inedite, accompagnate da un booklet da 24 pagine con foto e testi, e non è tutto, questa versione sarà anche disponibile in edizione autografata, per chi desidera un tocco personale dalla nostra icona della musica italiana. La versione deluxe, che includerà sia la versione italiana che spagnola del CD standard, ma ciò che la renderà davvero speciale è il CD bonus, con 6 canzoni extra. E per rendere l'esperienza ancora più completa ci saranno 20 card con foto e testi. E poi, per gli amanti del vinile, c'è il doppio vinile, anche questo disponibile in edizione autografata, con le stesse 16 canzoni inedite che troverete sul CD standard. Un'esperienza unica per chi apprezza il calore e il fascino dell'analogico. Ma ora, veniamo al cuore di questo incredibile progetto, con 16 tracce nella versione standard e addirittura 22 nella deluxe, Laura Pausini promette un'esperienza musicale intensa. Anime Parallele, Almas Parallelas, è molto più di un album, è un concept album che celebra l'individualità di ciascuno di noi. Attraverso esperienze di vita diverse, Laura racconta storie che coinvolgono profondamente, trasmettendo un messaggio di rispetto reciproco e amore in un mondo che può condividere i luoghi senza necessariamente condividere le idee. Ma l'entusiasmo non finisce qui. Laura Pausini ha coinvolto i suoi fan in un modo straordinario. Attraverso una sfida sui social media, ha chiesto ai suoi seguaci di immaginare e condividere la loro idea di copertina per anime parallele, Almas Parallelas. Questa iniziativa ha ispirato i fan di tutto il mondo ad esprimere la propria creatività e i propri punti di vista, seguendo il messaggio di libertà ed espressione che l'album incarna. E c'è di più. L'uscita di questo album epico anticipa il Laura Pausini World Tour 2023-2024, un tour che attraverserà l'Italia e le arene più prestigiose d'Europa, l'America Latina e gli Stati Uniti. È un'opportunità unica per i fans di Laura di vivere la sua musica in un'esperienza live straordinaria, organizzata e prodotta da Friends & Partners. Ma prima di partire per il tour, Laura Pausini farà una tappa speciale per incontrare i suoi fans affezionati al fan club ufficiale Laura4U, Laura Pausini Official Fan Club, il 2 dicembre allo Stadium di Rimini. Questo evento prende il nome di Launatici, ispirato al suo singolo Il primo passo sulla Luna. Insomma, cari ascoltatori, il 2023 e il 2024 saranno anni eccezionali per Laura Pausini e tutti i suoi fans che non vedono l'ora che arrivino queste date. Restate sintonizzati su Radio Puggini On Air per tutte le ultime notizie e anticipazioni su Laura Pausini, sulla musica e gli artisti italiani e internazionali sui quali vale la pena rimanere sempre aggiornati. Iscrivetevi al mio canale YouTube Marco Puggini. Alla prossima puntata.